All'orito a Prutino la pandemia non ferma l'arte di No Man's Land, che ha presentato nei giorni scorsi nel museo all'aperto di Contrada Rotacesta l'installazione Site Specific di Alberto Garutti, dal titolo Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora. L'opera, che si aggiunge già alle tante installate negli anni passati nella Contrada del Centro Vestino, consiste in una lastra di pietra della maiella inserita nel prato con sopra incisa la frase da cui il titolo. La fondazione No Man's Land ha poi presentato nella stessa giornata altre due installazioni, entrambe del 2006. La prima è ad opera di Alvin Carran, un omaggio a John Cage, dal titolo Gardening with John. La seconda, dal titolo La Voce dei Poeti, è opera di Donatella Spaziani, che su quattro alberi di pioppo ha posizionato casette per uccellini con all'interno delle casse audio, dalle quali vengono riprodotte le voci di Annalisa Leva, Daniela Attanasio, Daniele Pieroni e Valentino Zeichen. Non ci possiamo tirare indietro, è qualcosa che ti senti la necessità di essere presenti con la mentalità e la visione che solo gli artisti hanno. Quindi gli artisti e l'arte vince perché rappresenta una mentalità e una prospettiva, loro ci danno una prospettiva diversa, di un vivere diverso e quindi assolutamente è necessario. Il settore ha davvero sofferto e adesso questa ulteriore tegola della seconda puntata rischia di mettere davvero nell'astrico tutto il comparto della cultura italiana. Sappiamo quanto invece questo comparto è strategico non solo per le attività turistiche tradizionali ma anche per i profili della coesione sociale e degli investimenti in conoscenza che poi dà risultati strategici nel medio e lungo periodo. Il sindaco di Loreto Aprutino Gabriele Starinieri ha poi parlato della possibilità in piena pandemia di far svolgere la didattica all'aperto in un posto che si presta al distanziamento sociale. Si sta parlando anche con diverse scuole per poter poter usufruire di questo spazio bisogna trasportarli oggi non sono stati invitati ecco per mantenere dei limiti però come sono state fatte tante diverse attività anche nella fase pandemica credo che è possibile e ci sono delle proposte.